E bentornati tutti quanti nella locanda oggi con un nuovo video Più esattamente torniamo con le car review Sono state annunciate davvero tante carte neutrali Con rarità comune in verità Quindi sappiamo che tendenzialmente questa rarità È un pochino associata alle carte filler Ma secondo me ci sono due carte davvero molto interessanti Una che è davvero fortissima Forse una delle carte neutrali più forti del gioco Per come la conosciamo dopo Patches E poi un'altra invece che merita un discorso più ampio E una così così Partirei proprio da quella così così Che è Sunspot Dragon Una semana 6-6 Con scambio, furto vitale E inoltre Quickdraw fai 6 danni Una carta che potremmo dire molto interessante Allora io non ho ben capito sinceramente la meccanica Quickdraw Ma da quello che c'è scritto Cita appunto quando ti entra la carta nella mano Attiva il bonus speciale Quindi in verità anche se i generi da carta Comunque la vai a ottenere appena ti entra in mano Ecco, e tu la vai a rigiocare Il tuo richiedente dovrebbe avere l'effetto attivo L'effetto è quello di fare appunto 6 danni Perché vi dico questo? Perché nel passato abbiamo avuto un drago molto simile Che era Alestrasa, no? Alestrasa era un 8 mana 8-8 Mi pare che faceva 8 danni O ti curava di 8 Dipendeva se appunto targettavi servitori nemici O targettavi testa O comunque i tuoi servitori Ecco, questo drago è leggermente meglio, no? Perché è vero che costa 2 in meno E fa 2 danni in meno Però non solo appunto il costo in meno Lo rende molto più giocabile Ma anche e soprattutto Ha il vantaggio di poter avere il lifesteal inglobato Quindi non solo tu vai a fare 8 danni In questo caso 6 E stop Ma fai 6 danni E ti curi anche di 6 Che non è per niente male Tornando appunto al discorso Dov'è che Alestrasa si giocava? Tendenzialmente si giocava il rogue Perché rogue è una carta come Ovviamente Shadowstep E Shadowstep ti permette di andare a riprenderti le carte Ecco Sunspot Dragon Secondo me ti potrebbe permettere in verità Di venire ripreso in mano a questo punto E che potrebbe comunque permettere una cosa Come un massimale di 12 danni Che non sono per niente poche Ovviamente la carta non è flessibile Quanto vorremmo Ad esempio Alestrasa tu la potevi riprendere in mano E magari giocarla turno dopo Però comunque potrebbe anche scombarci in qualche modo La carta non è malissimo di sé Proprio per questa similitudine con Alestrasa Forse io la promuoverei Ma proprio risicata risicata 3 stelle Per essere buoni E comunque un drago Di sicuro se ci sarà un mazzo drago Questa carta potrebbe vedere tranquillamente il gioco Anche perché tra l'able rende ovviamente L'effetto di quick draw molto più consistente E molto più forte Invece per quanto riguarda Ike Nunon Duelist Tre mana 4-3 Ranto in morte Entrambi i giocatori pescano Distruggi la carta che costa meno Una carta interessante Molto tematizzata bene In verità per quanto riguarda appunto L'ambientazione cowboy che vogliono dare a questa espansione Praticamente è come Due che si sfidano Chi ha la giocata migliore potremmo dire Va a vincere In questo caso la giocata migliore consiste Nel avere un servitore più grande dell'avversario Dove quindi si potrebbe vedere giocare questa carta Sicuramente un mazzo contro Big Comunque che presenta delle carte molto costose E difficilmente ad esempio la si vedrà giocare in agro Anzi di sicuro non la si vedrà giocare in agro Il problema di questa carta è che non ha provocazione È una giocata molto lenta Perché voi a tre mana è vero che state mettendo ovunque Le statistiche che sono ok È un 4-3 Però tendenzialmente la finite lì Inoltre non è che siete nemmeno sicuri Nell'andare a distruggere la carta dell'avversario E proprio per questo motivo a me Non è che faccia impazzire a dire vero questa carta Poi magari nascerà un mazzo a me Che svilupperà appunto il ranto di morte di questa carta Lo copia e chissà che cosa vuole fare Fa distruggere tipo tutto il deck dell'avversario Già immagino una roba del genere Sarebbe divertentissimo Però appunto al di fuori di cavolate del genere Questa carta rimane debole Al massimo per quelle cose lì Vuoi giocare ostrica Che di sicuro è leggermente meglio E per far millare l'avversario E quindi direi che Carina Ma probabilmente non basta per ballare e danzare Per questo motivo gli do 2 stelle 2 stelle e mezzo massimo Per invece Per quanto riguarda l'orso Slinger Slinger Non lo so come si pronunci Tremana 2-2 Grido e battaglia Fai due danni a un servitore nemico casuale Se invece l'hai pescato O comunque generato in questo turno E uno anche ai suoi vicini Quindi servitori adiacenti Una carta che sinceramente non mi piace Troppo costosa Statistiche terribili Per fare due danni a un altro servitore casuale Non ha un effetto particolarmente forte Ad esempio Locke lo fa con una 2 mana 2-2 Che tra l'altro ha anche furto vitale E quindi ti cure anche di 2 Qui è vero Hai un bonus che è quello dato da quickdraw Però mi pare un bonus Completamente imbarazzante Anche perché i due danni Non è che nemmeno li scegli te Anzi Sono pure casuali E quindi capite che Non poter nemmeno anche gestire i due danni Più Gli uno degli adiacenti Rende la giocata davvero davvero Di basso livello Questo mech non vedrà gioco In nessuno dei mazzi mech attuali Che sia pala Che sia rogue Che sia mage E per questo motivo Non gli riesco a dare Più di 2 stelle Per quanto invece riguarda Il trapdoor spider 2 mana 1-2 Furtività Veleno Dopo che il tuo avversario ha giocato un servitore Attaccalo Quindi è una carta che tendenzialmente Vuole andare a distruggere un servitore nemico Un single target removal Ovviamente voi non saprete mai Cosa andrete a distruggere Di servitore dell'avversario Sarà lui a sceglierlo Il vantaggio Ovviamente che l'avversario Difficilmente riuscirà a giocarci attorno Cioè Ce la può fare tranquillamente Ma ad esempio Pensiamo a un mazzo big O comunque Un mazzo che Vuole giocare in curva Ecco Avere questo 1-2 Potrebbe essere fastidioso Il problema ovviamente che Pur avendo furtività Questo 1-2 Può morire tranquillamente Da tutte quante le OE del gioco A me pare sinceramente Una carta troppo filler E' vero che è una bestia Il che non è male Potrebbe scombare appunto Con il rabbit Che abbiamo visto ieri Però intendo Mettere in combo rabbit Con sta roba Per andare a fare single target removal Mi sembra assolutamente Scarso e imbarazzante Per questo motivo Non posso promuovere la carta Carta filler Due stelle Ma attenzione Perché fra poco Arrivano le carte migliori Non è questo il caso Di gold panner Che non ha un effetto Bruttissimo Infatti alla fine Del tuo turno Pesca una carta E il problema E' il costo in mana Di questa cosa qui Infatti 2 mana Sono purtroppo Troppi Se fosse costato 1 Sarebbe stata di sicuro Una carta Non solo forte Ma molto molto forte Forse Super giocata Ecco A 2 mana Io Difficilmente Vedo Gioco Per questa carta Di carte simili Ne abbiamo avute In passato Ad esempio Pensiamo all'attuale 1-1 Che pesca un segreto Alla fine del turno Ecco in quel caso Ti tutura i segreti In questo caso Ti pesca una carta in generale Che è ancora meglio Perché Che se hai finite segreti In quel caso L'1-1 È completamente inutile Invece questo Trova sempre gioco Lo svantaggio di questa carta È che tendenzialmente Costando 2 L'avversario A 3 mana O comunque 2 mana Col coin Riesce a rimuovere Senza troppe problematiche E per questo motivo Secondo me La carta Non è malissimo 3 stelle Forse in alcuni meta Si potrebbe anche pensare Di andare a giocare Ma nel meta attuale Con le giocate fuori controllo Che ci sono ora Di sicuro Il gold banner Purtroppo Non credo che vedrà Molto gioco Invece Vi posso dire Che la saloon Brewmaster Potrebbe essere Una carta molto interessante Una 2 mana 2-2 Grillo battaglia Fai ritornare un servitore Alla tua mana E dagli Più 2-2 Una carta Che ricorda molto Birraio Birraio Che ti faceva Riprendere mano Un servitore Una carta Che è utile Per andarsi A rimbalzare Magari Dei servitori Che vuoi giocare Più volte Ad esempio Ora noi sappiamo Che c'è Yog No Yog È una carta Fortissima In meta Spesso e volentieri La si riesce a giocare A 3-4 Mana Ma anche a 0 E poterla Magari Farsi rimbalzare Con il saloon Potrebbe diventare Non solo Una giocata Molto forte Ma addirittura Win condition Nel matchup Questa 2-2 Tendenzente Non ha troppe sfighe È una buona carta Il buff Non credo che influenzi Troppo Però magari In alcuni mazzi Potrebbe anche servire È ok Dipenderà un pochino Dal meta Dipenderà un pochino Se ci saranno Alcune liste Che necessitano Di rimbalzare Noi sappiamo Quanto è forte Riprendersi in mano Delle carte Ad esempio Vediamo Il rogue Quello che può fare Appunto con shadowstep O comunque Con la spell da 1 E quindi Insomma La saloon brewmaster Secondo me 3 stelle Se le prende Pienamente E potremmo Vederla In futuro Su Questi Schermi Per quanto invece Riguarda il cactus rager Vabbè Ogni espansione Ha questi rager Che gli cambia Un pochino Le statistiche Ma sono sempre Più o meno Dei 5 e 1 In questo caso È un 2 mana Con Poisonous Quindi veleno Carta completente Filler Completenti inutile Possiamo andare Alla prossima Una stella Bocciata Statistiche terribie Se almeno fosse stato 1 a 5 Avrebbe avuto più senso Ma comunque Non si sarebbe giocata Invece Eccola qui Forse Il re Il principe Di tutta Questa car review Stiamo parlando Di Miracle Salesman 1 mana 2 e 2 Quindi statistiche Fuori di testa Con detrattolo Ottieni un Olio di serpente Con scambio Olio di serpente Con scambio Per chi non lo sapesse È una 0 mana Con appunto La tag scambio Che fa 0 danni Però voi potete capire Quanto è forte Questa carta No? Carta di stampo Aggressivo Tendenzialmente In ogni Deck Aggressivo Tu vuoi giocare Un 1 mana 2 e 2 Sono statistiche Buone E nulla Va a togliere A queste statistiche Ad esempio Pensiamo che Un tempo fa Quando comunque Il meta Aveva un power level Molto elevato Si giocavano 1 mana 2 e 2 Senza Effetto Ma in questo caso L'effetto c'è Ed è un effetto Che non è per niente Brutto In quanto voi Ottenete una spell Da 0 Quindi Non vi costa niente Tenerla in mano Potete giocare Quando volete E al massimo Fa 0 mana Fa 0 danni Quindi Completamente Inutile Però il punto 1 è tradabile Quindi Comunque Magari Un mazzo Aggressivo Vuole giocare In curva Magari Rimane anche Un mana Per andare A completare Completamente La curva Ecco Magari Ci potrebbe Infilare lì La meccanica Scambio Per andare A pescare Una nuova Carta Inoltre È una carta Soprattutto Fondamentale Per quei Mazzi Che vogliono Far danni E vogliono Chiudere la partita Grazie Allo spell Damage Pensiamo Ai mazzi Maligos In wild Ma pensiamo Ad esempio Al mage A Sif In standard Sif Ad esempio A varie carte Che fanno Due danni Testa All'avversario Il problema Che quelle carte Costano Un mana E quindi Bisogna giocare A volte Delle carte Subottimali Per andare A scontare Le vostre spell In mano Ecco Avere invece Delle spell Da zero Che tendenzialmente Non costano Nulla Che si buffano Comunque Con lo spell Damage Che comunque Hanno scambio E quindi Il mago Potrebbe anche Sfruttarle In maniere Diverse Secondo me Diventa Molto interessante E anche In vista Di otk Il miracle Seismana Potrebbe essere Molto forte Ma non solo Non finisce qua Infatti anche Miracle Rogue Questa carta Potrebbe Essere Valida Alla fine Voi state Giocando Un'unumana 2-2 Che comunque Sono buone statistiche Che vi da inoltre Una spell Da zero Spell Da zero Che è perfetta Per ciclare Appunto Con i luoghi E poter costruire Magari un fantasma Ancora Più grosso Che c'è da dire Una carta Che non ha sfiga Una carta davvero Molto forte Quattro stelle e mezzo Attualmente Credo la carta Più forte Che abbiamo Visto In meta Questa roba qui Difficilmente Non vedrà gioco Nella prossima espansione E io sono Molto fiducioso E curioso Di vedere Che mazzi Si andranno a creare Proprio per Questi Snack Oil Insomma Era qui Tutta car review Diciamo che Miracle Seasman Di sicuro Valeva la pena Andarlo a commentare Anche la saloon Brewmaster E il sunspot dragon Sono carte Comunque interessanti Che in determinati mazzi Potrebbero vedere Anche gioco Il resto Possiamo dire Dei filleroni Ma è normale Siamo Semplicemente Alle carti Di rarità Comune E Senza classe Poi Più avanti Usciranno Le varie leggendarie Le varie epiche Soprattutto Anche le varie Legendarie Di classe Tra cui Si vocifera Anche un Reno Eurocard Del druido Quindi davvero Ragazzi Tanta tanta roba Io vi aspetto Domani Con una nuova car review E soprattutto Con un nuovo video Alle 13 Ancora Grazie di tutto E niente Ciao ciao